Ciao a tutti carissimi, come va? Vi ricordate quando abbiamo parlato del clarinetto? Oggi vi voglio fare ascoltare il suono di un suo antenato. Infatti questo antico strumento si chiama clarinetto di canna. Altri suoi simili con nomi diversi si trovano in varie parti del mondo. La peculiarità è l'ancia, ricavata direttamente nel segmento di canna dove vengono inseriti i fori. Il suono ricorda molto le doppie ance da zampogna e di conseguenza per dare più significato al suo linguaggio è necessario utilizzare la respirazione circolare. Vi ricordate? Ve ne ho parlato nel video sul digeridù. Per chi non l'abbia ancora visto può visionarlo su questo canale nella playlist pillole sonore. Un caro saluto a tutti da Carmelo Salemi, a presto, ciao!